19 giugno 1926 nasce a milano gian giacomo feltrinelli erede di una ricca famiglia industriale feltrinelli aderisce dopo la guerra al partito comunista alla fine del 1954 fonda la casa editrice gian giacomo feltrinelli editore che pubblica best seller di rilievo internazionale come il dottor zivago e il gatto pardo nel 1970 feltrinelli costituisce i gap gruppi d'azione partigiana un'associazione terroristica di estrema sinistra il 15 marzo del 1972 il suo corpo viene ritrovato ai piedi di un traliccio ad alta tensione assegrate dilaniato da un'esplosione un tentativo di sabotaggio finito male ma tutt'oggi rimane il mistero sulla sua morte